John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti! Prima di cominciare vi ricordo che questo è il sesto appuntamento con quanti anni ci vogliono per vincere la Champions League con la squadra più scarsa del mondo in FIFA 21 solamente simulando però se non avete visto gli altri 5 è inutile che vi guardate questo quindi andate sul canale e recuperatevi anche gli altri episodi per arrivare a questo, tanto ogni episodio è una stagione intera quindi mi raccomando recuperatevi gli episodi detto questo iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace perché se lasciate tantissimi mi piace qui sotto entro stasera oggi vi porto un altro episodio altrimenti ovviamente ve lo porto domani oppure iscrivetevi al canale, 500 iscritti entro stasera e vi porto appunto un altro episodio altrimenti ve lo porto domani detto questo, detto questo vi faccio vedere rapidamente le scelte che ho fatto per quanto riguarda la telecamera spenta più che altro ho rinnovato il contratto di Walton però vi tiro la verità, se dico un'offerta grande io Walton non lo vendo ma per il semplice fatto che prenda 40.000 di stipendio mi succede se sono lamentati e mi hanno detto che i miei vorrebbero esonerarmi perché prende troppo, in realtà prende 40.000 non è che sia così tanto però a confronto agli altri sembra tanto Arthur comunque lo vado a prestare poi ho pensato di vendere e bettala ma tanto me l'ha chiesto lui quindi va bene Ole all'ultima stagione Pinna se riesco lo piazzo Andre me lo tengo ovviamente Crawford se riesco lo metto in lista prestiti dillo presto Oxlite Chamberlain e Palacios non è che voglio venderli però potrebbero essere utilizzati come termine, come merce di scam cioè come merce di monetizzazione Leiva è giovane me lo tengo Valente è giovane me lo tengo Valente tra l'altro se non sbaglio è pronto per diventare un cc fammi vedere eccetelo qua ti è cc bene così poi Mattiello se riesco lo vendo che non ci faccio niente sinceramente Neubauer io quasi quasi lo richiamerei mo ci penso un attimo Sottil se riesco lo vendo Makado e Di Stefano sono in prestito Fagir me lo tengo Ashley Seal e Antist io Antist se riesco lo vendo l'unica cosa ragazzi Ashley Seal e Antist non hanno voluto rinnovare il contratto eh aspettiamo un attimo Kelman è qua e lasciamolo qua detto ciò io vorrei fare una cosa una sola cosa che adesso vi faccio vedere anzi prima servamo mo ve spiego pure perchè ovviamente ragazzi se mi esonerano devo ricominciare da capo ma se mi esonerano per cazzate cioè mi esonerà per il campo ok se mi esonerano per cazzate no voglio prendere un calciatore stratosferico Paolinho ha una clausola recessoria di 17 milioni di euro ragazzi miei proviamo a prendere Paolinho paghiamogli la clausola recessoria e andiamo a trattare colui per il contratto però c'ho paura che dandogli troppo perchè il giocatore prende più mia il portiere prende 40 mila se io do troppo a Paolinho poi mi esonerano e quindi insomma voglio vedere sta cosa 69 mila speriamo che non mi cacciano intanto lo accettiamo e lo prendiamo ragazzi è una stella è una stella certo che coglioni che mi devono cacciare perchè prendo Paolinho cioè guardatelo qua quanto è bello titolare che può giocare anche esterno adesso e adesso lo vado anche a trasformare ok siamo arrivati alla partita con il Fosburg Christian Walton supera di vera lunga che palle però fammi vedere qua che bonno Oxlade Chamberlain credo sia la soluzione migliore per tutti ma comunque non è che ti sto vendendo detto questo andiamo a simulare la gara contro il Fosburg nella speranza insomma che non si faccia il crociato adesso coso Paolinho perchè potrebbe blasfemare ma ho perso una a due ha segnato Paolinho va bene così grazie ragazzi sempre così felici mi rendete simuliamo anche la gara contro l'Eintrick di Francoforte 1-1 Antist e Larson ce la faremo a vincere una partita una partita fondamentale contro il Celtavigo andiamo a simulare velocemente speriamo che Dio ce la mannibona abbiamo beh ho perso tutte oh mamma mia che tornaio del merda quest'anno la vedo dura dura in Premier League dura dura ragazzi stanno abbiamo la Premier eh tutti che vogliono i miei gioielli comunque chiedetemi gioia di uno di scarsi non i gioielli stronzi siamo arrivati tra i grandi ragazzi ci hanno chiesto Palasios il Leicester ce l'ha chiesto sarebbe disposto a darci soldi più castagne siamo proprio tra i grandi cazzo abbiamo venduto sottil per 7 milioni e mezzo al Ghent mobilità sul mercato anzi immobilità sul mercato ragazzi tanto abbiamo venduto Vettela per 2 milioni a Rioave parte che dopo Paoligno non si dovrebbe mai più parlare di di mobilità però vabbè cioè ragazzi ho preso Paoligno io non c'ho parole intanto abbiamo prestato Arthur al porto per un anno prestato per due anni Crawford al Pec Zuolli ma soprattutto ragazzi abbiamo venduto per 53 milioni di euro 53 milioni di euro Palasios e adesso voi direte Sik ma che sordi che ce fai? e ora vi faccio vedere che ce faccio ci sarebbe questo calciatore qua Puig che ha una clasola di 36 milioni io la pagherei e proverei a portarmelo a casa vediamo un po' mamma mia lo stipendio ragazzi che prende questo mi cacciano mi cacciano ok lui è stato abbastanza ragionevole devo dire rispetto alla mia situazione certo che 100 speriamo che non mi cacci non mi cacciano io non ci posso fare 160 mila dai dai non mi cacciate non mi cacciate vi sto prendendo Puig cioè vi ho preso uno dei migliori calciatori in assoluto non mi cacciate per favore siate buoni e non rompete i coglioni non mi cacciate non mi cacciate non mi cacciate non mi cacciate ok non mi hanno cacciato per un momento mi sa che funziona solo quando rinnovo non quando compro ragazzi abbiamo venduto Xlatch Amber Lane per la cifra di 37 milioni di euro all'Atletic Bilbao a questo punto ragazzi io rito tantissimo Racic Racic clausola recissoria 28 milioni di euro paghiamola e andiamo a prenderlo mamma mia che squadra che stiamo facendo ragazzi con le clausole recissorie andiamo a vincere la Champions con le clausole recissorie cazzo preso Racic mamma mia mamma mia giusto per dire giusto per dire metto sulla sesta linea Racic e Puig e Paolinho giusto e André mamma mia ragazzi abbiamo il centrocampo più forte della Premier League tanto abbiamo venduto Pinna per 3 milioni e mezzo alla Zalcamar raga Antiste non riusciamo a venderlo perché secondo me vale più di 18 milioni e mezzo intanto abbiamo venduto Mattiello per 3 milioni allo Stiawa Bucarest ragazzi è una cosa che dovete assolutamente vedere allora allora c'è un giovanotto del Milan tale Eijie Augie eccatelo qua TIE che è un 82-25 anni e praticamente e praticamente c'ha 12 milioni di clausole recissorie cosa che noi pagheremo in questo momento e andiamo a trattare io non vi ho detto niente ma noi l'abbiamo comprato poi fate voi noi intanto Eijie lo stiamo facendo diventare una T e quindi facciamo ovviamente questo cioè spostiamo lui dietro facciamo diventare una T e mettiamo qua Eijie madre del Dio ragazzi che squadra per la Premier League nel frattempo arriva il match contro il West Brom squadra che è salita con noi loro hanno preso Pasalic noi Puig noi Puig Racic Paolinho e Augie Eijie però va bene uguale cerchiamo di vincere non mi fate far figure del merda al debutto abbiamo vinto 1-2 gol di Paolinho e di Rui Ricky Puig match casalingo contro l'Everton la partita è importantissima dobbiamo vincere sono certo che ce la faremo dai ragazzi dimostratemi di che abbiamo perso porca troia si gioca una gara in casa del Watford simuliamo pareggiato 1-1 gol di Eijie tra l'altro prima riede di Eijie Mazzalarsen ha perduto a 0 contro il Brighton come nella realtà non nella realtà che abbiamo fa schifo con quel senso dai contro il Norwich in Coppa facciamo la squadra tutta arroccata perché sono tutti stanchi c'è una squadra un arroccate un arroccate town un arroccate town abbiamo vinto 1-0 Andre e fa chiera se mangia del gol rigore tacci due del sia guave la taccia ragazzi sto godendo come un porco perché l'ho aspettato adesso sto rinnovando antiste guardatelo un po' cioè prima voleva 30.000 a settimana ma ne sta accettando 9.600 prima voleva essere cruciale ma è turnover 4 anni non ho parole non ho parole non ho parole e poi l'altro è lui vediamo se anche lui adesso fa il cucciolino vediamolo un po' turnover pure lui io non ho parole io non ho parole eppure lui voleva 30-40.000 guardate un po' come si abbassa lo stipendio guarda Ale bella a parte ci prendeva 3.000 però bella roba li abbiamo rischi rinnovati entrambi detto questo ragazzi è una cosa importantissima da fare allora i tre portieri ce li abbiamo terzini sinistri va preso uno perché non lo abbiamo io forse richiamo Aguilar anzi senza forse lo richiamo perché ci serve il terzino sinistro poi di vento ci abbiamo uno, due, tre, quattro forse serve un altro centrale a destra abbiamo Francesco lui ci sta diventando mo ci penso poi a sinistra abbiamo loro due centrocampisti ce li abbiamo e come a destra giocano Paoligno e poi io richiamerei anche Neubayer almeno non sono costretto a comprare altri giocatori poi abbiamo Auge che fa la seconda punta e poi davanti abbiamo un sacco di gente Fagir Antista Kelman Nashley Sil possono ovviamente alternarsi tutti quanti so perché dicono che ci sono parecchi giocatori scontenti col morale a terra eccetera e adesso voglio capire perché voglio andare ad analizzarli uno per uno guarda qua madre del dio ah tutti rinnovo volevano sti pezzi de merda c'ho parole comunque do rinnova i contratti a tutti mo a tutti gli do rinnova io non c'ho parole mamma mia che palle piagnoni de merda o piagnoni de merda tacci posti mi è stato usurpa tutti i miei soldi tutto il mio danaro maledetti ma mo' è contento Joko Vasky vaffanculo pure a te allora ce l'ho fatta adesso dovrebbero essere tutti contenti e meno rompi coglioni vediamo come si mette la situazione tutti i roteverculli tutti giochiamo questa gara contro il Manchester United ovviamente con i titolari simulazione veloce vediamo come va questa gara dai 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 dimostriamo che valiamo tanto amo presar culo abbiamo perso 3 a 1 benissimo valiamo tantissimo la Premier League ragazzi è veramente difficile comunque ma veramente difficile ultimo giorno di mercato nel frattempo perchè vi l'incominciato avendo per 133 milioni allerta Berlino perchè allora a parte che l'Everton ha venduto pure sua zia però a un'ora dalla fine del del mercato noi abbiamo 8 milioni però zero di budget un cazzo praticamente abbiamo finito i soldi quindi io l'ultima cosa che farei 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 sostanzialmente è andare su Mercanna e provare a prenderlo cioè in realtà lo prendo pagando la clasola recessoria per avere il centrocampista in più di cui vi parlavo che mi serviva a rimpinzare il centrocampo quindi lo andrei a prendere ora l'Event Mercanna sperando che cresca sembrava dovesse crescere chissà che invece è rimasta 74 ok l'abbiamo preso ci sono rimasti anche qualche spicciolino mazza Ermoso quanto fa schifo e che non ho i soldi per prendere Cetin se no avrei preso Cetin con pagando la clasola recessoria avrei preso Cetin ma non ho i soldi a questo punto si penso che prenderò Ermoso ma nemmeno vado a pagare la clasola inizio la trattaglia che lo pago meno ma anche per pagarlo proprio una stronzata per avere a livello numerico un quinto centrale considerando che potremo avere tante competizioni Cetin l'abbiamo preso l'abbiamo preso potremmo pagare la clasola a questo punto vabbè in chi accettano addirittura ti fa sporadico questo io non c'ho parole c'è un contratto a due anni preso ma addirittura poi ha cifre bassissime va bene così abbiamo visto il mercato in questo modo va benissimo non so perché sta calando il nostro overall vabbè come mi pare inoltre c'è questo centrocampista qua che non mi dispiacerebbe per niente io quasi quasi lo promuovo metti e me lo rubano lo promuovo in prima squadra dai detto questo andiamo a guardare qual è la formazione titolare Walton in porta ci sta loro due sono i centrali ok però se quest'anno non arrivano 80 voi di chi venremo a sinistra Dedic è perfetto a destra Francesca è perfetto poi Paulinho gioca qua va bene Racic Puig André Augie Fagir va benissimo la squadra è lunga il giusto facciamo la panchina portiamoci in panchina questo portiere qua Ashley Seal raga io Ashley Seal non posso lasciarlo fuori cazzo Neubauer pure comunque un ottimo giocatore lo mettiamo al posto di Da Costa al posto di Leiva ci mettiamo l'unica cosa che mi sono accorto è che i difensori sono veramente contati mamma mia ragazzi vabbè qua ci mettiamo Antist dai Mercan se proprio vogliamo lo mettiamo al posto di ma di chi lo mettiamo al posto The Fall madonna comunque no i difensori ce li abbiamo veramente contati veramente veramente contati vabbè detto ciò andiamo direttamente a stagione calendario e andiamo se voi siete d'accordo a simulare tutto ho sbagliato tasto andiamo a simulare tutto ma fino a quando non lo dico fino a maggio ma la partita non è che finale la partita prima dell'Arsenal il gioco della partita dell'Arsenal perché perché dobbiamo mettere all se no poi c'è caccia l'anno scorso si erano incazzati dicendo noi così non facciamo noi diamo possibilità quindi via allora raga allora siamo arrivati a maggio questo mese è una merda abbiamo pareggiato con West Ham abbiamo preso tre bombe da Liverpool non so se vedete adesso andremo tutto indietro io vi ricordo obiettivo UEFA Champions League ovviamente loro ci hanno messo come obiettivo quello di non arrivare cioè di arrivare a metà classifica io voglio vincere cioè voglio andare in Champions ragazzi voglio andare in Champions questo è il mio obiettivo maggiore andiamo a vedere com'è andata pareggiato con l'Eister perso con l'Its mamma mia perso un Coppa Coloni e pareggiato con l'Arsenal se che è il Champions ma dove andiamo così andiamo avanti pareggiato con l'Aston Villa vinto con il Liverpool bene perso col Southampton in questo momento saremo tipo quindicesimi andiamo avanti pareggiato col Brighton perso col Wolverhampton vinto col Norwich perso col Crystal Palace appena zona salvezza perso col Newcastle vinto col West Ham vinto con il Tottenham pareggiato con il Manchester City perso col Newcastle pareggiato con il Chelsea ripeto saremo quattordicesimi una merda ragazzi è andata una merda vinto 4-2 in Coppa poi vinto 1-2 in campionato perso 0-2 perso 2-1 vinto 3-2 in Coppa pareggiato 1-2 in campionato non è andata bene non siamo in Champions vinto 2-0 vinto 0-1 vinto 2-0 tre vittorie di final non male abbiamo perso in Coppa i rigori vinto 2-1 in campionato vinto 1-0 in campionato pareggiato col Crystal Palace vinto 4-0 contro il B.W. West Brom e perso 3-2 con il Tottenham e poi questo finale qua vediamo dove siamo in classifica ooooooooooooh decimi e vabbè dai per il primo anno di Premier League ci sta manca il match con l'Arsenal che comunque è giusto per la cronaca per quanto riguarda l'ultimo match con l'Arsenal andiamo a far giocare dove sta Hall che conclude la sua carriera qui andiamo a farlo giocare poi non voglio vedere nessuna valutazione non sto guardando niente e poi andiamo ovviamente a vedere come si è conclusa questa stagione vediamo sostituisci il giocatore va bene vai vai fate giocare Hall per l'ultima partita della sua carriera simuliamo in casa contro l'Arsenal dimostriamo un po' di maturità dai vinciamo 2-0 eccolo là Fekir oyeye va benissimo sono contento grazie mille grazie mille a Hall per come ha chiuso la sua carriera capitano per anni grande giocatore di questa squadra l'ha portata fine in Premier League veramente idolo 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 siamo davvero entusiasti dei progressi compiti dal nostro settore giovanile riusciti a centrare l'obiettivo che ci eravamo per vissati crea una squadra con giocatori provanzi dal vivaglio siamo molto pieni della crescita dei nostri giovani sono contento premio torneo 140 milioni l'anno prossimo facciamo un mercato regà che vi dico fermati mamma mia lasciate vicino poi vi fa oggi cazzo la puttata oggi detto questo andiamo a vedere come sono andati i nostri giocatori durante quest'anno a brosa allora allora Walton fa 39 partite sale di 3 diventa un 82 bravo Walton bravo Walton Griffiths fa 7 partite sale di 1 Giannidis non sale mai che pippa che è Giannidis Arthur non sale arriva da 79 41 partite 3 gol e 3 assist però credo che a questo punto regà se l'anno prossimo vogliono portare a puntare alla Champions non so se può essere ancora un giocatore titolare in questa squadra non arriva a 80 bravo Aguilar che sale di 3 a 20 anni arriva a 70 poi Ojo Kovalski rimane a 76 no delusione 24 partite capitano delusione o l'ha giocato ha chiuso bene ragazzi 10 partite ha fatto Fagan Wolcott è salito di 3 andrà a 78 l'anno prossimo regà mi sa che c'è più spazio questi diventano panchinari poi Da Costa sale di 2 va a 69 Ermoso sale di 1 va a 71 ma Ermoso lo vendiamo quest'anno Franzès è arrivata a 82 è salito di 4 ha fatto 45 partite Kriuford è salito di 1 ma l'avevamo prestato André André ha fatto 4 gol e 7 assist non benissimo ma ragazzi è arrivata a 86 scusate quanto vale André finanze manco 167 milioni cazzo André cazzo André Full è salito di 1 10 partite per lui 41 partite per Racic che è un 85 90 è arrivato Puig ragazzi i miei Puig è arrivato a 90 9 gol e 6 poi Mercan è salito di 2 arrivato a 75 bravissimo Mercan 12 partite io l'avevo preso come proprio ultimo rincalzo invece è bene 70 è arrivato Valente è salito di 3 Orozco qui Leiva non è salito Leiva fai cagare ti vendo quest'anno ti vendo Leiva ti vendo te lo giuro ti vendo Paolini ha fatto 30 partite 6 gol e 2 assist Neubauer è salito di 2 ma aspettavo un pochino meglio comunque 8 partite un gol e un assist Eghie è salito di 1 è un 83 17 partite 5 gol e un assist Maciotto è salito di 2 Di Stefano è salito di 3 Di Stefano sembra un arbitro poi Ashley Seale è salito di 2 2 gol e 3 assist 7 gol per Kelman che è salito di 3 Antista è salito di 2 ha fatto solo un gol delusionissimo Antista e poi però ragazzi c'è Fagir che è arrivato a 83 ha fatto 19 gol e 3 assist bravissimo Fagir veramente bravissimo ragazzi è stata una stagione molto interessante guardate quanti soldi abbiamo per l'anno prossimo ah no non ce li fa vedere ancora non vedo l'ora di vederli spero siano più di 100 veramente spero siano più di 100 sono super gasato siamo arrivati decimi peccato perché potevamo veramente provare a prendere l'Europa non ce l'abbiamo fatta però però credo che alla fine insomma tutto è bene quel che finisce bene credo che la stagione non sia andata poi così male detto questo fatemi sapere la vostra mi racconto con un commento qua sotto io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua se vi da più di video lasciate tantissimi mi piace in caso contrario come sempre un dislike ma spiegatemi il perché grazie ragazzi ho carico a mille voglio fare voglio fare adesso la squadra per vincere la Premier League buo ciao all'alene come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao